Ma non capisco. Dove siete? Oh, lei non può vederci, signor Pilgrim. Viviamo nella quarta dimensione, ma noi possiamo vedere lei. E ci sono molti tra i famadoriani importanti qui, per dar lei il benvenuto. Ah, grazie. Il sole è fatto con i morti! Dovete fermarli prima che sia troppo tardi! Ecco, ci sono! Ehi là! Non funziona l'ascensore! Aaaaaah! E qui che doveva scendere? Aaaaaah! Vediamo se questi bastardi possono andare a 90 Eccolo Vivo o morto, tu verrai con me. Io non ti conosco. Tu sei morto. T'abbiamo ucciso. Ehi, 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 calma. Tieni. Generatori ausiliari. Circuiti ausiliari fuori uso, signore. Quanto mi secca avere sempre ragione. Ehi, Goins. Su, alzati. E qua te, Jeffries. Goins. Che c'è? Reggis. 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 Are you veilous? Reggis. Agh. Stai per esplodere! Abbiamo trovato un attacco a gastronomia! La pressione è al massimo! No! Mettiti il cazzo! Questo qui è ancora caldo molto. Cosa contiene? Le reminiscenze di un grande amatore? Un catalogo di conquiste? Adesso lo scopriremo. Fermi! Attento, David! Non è un giocattolo! Non la farino! Ho lavorato troppo ultimamente! Riesci a leggerlo? Non ne chiedo. Hai un po' troppo ferro nel sangue. Avanti, concedenti, Calabria. Torniamo alla lacuna. C'era un registratore. No, non il disegno, non il disegno. Prese. Torna indietro. Presto. Sono stato addestrato nelle vostre artigedi. Dal conte duco. Ok, allora, la polizia, i bambieri. No, non si riesce a prendere le mie. Inveo a procurar. Ah, 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 ah! No, 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 no! Sì, 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 Sì. Sì, Sì. Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, Sì, Sì. Sì, Sì, Sì. Sì, Sì, Sì. Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. 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 Sì, Sì. 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 Sì.